Brignano ci parlerà di Camillo Penza. Camillo Bezzo, Camillo Bezzo, era un uomo, era un uomo, era un uomo, almeno Bezzo, voi sai quei cose come cambiano una storia? Era un uomo della nostra bella penisola e lui, cioè lui come veniva soprannominato? Camillo Bezzo veniva soprannominato, cioè Camillo Bezzo in dove bazzicava lui, come? No, cioè lui in dove se la faceva lo chiamavano er, 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 er Pio, lo chiamavano il, perché è italiano, il Pio, lo chiamavano il, il, sor, sor, lo chiamavano Conte di Cavour, lo chiamavano Conte di Cavour. Camillo Penzo, Conte di Cavour, e per chi?